Ciao a tutti, il 22 giugno dello 0776 di avanti Cristo, un periodo molto molto lontano però accadeva un evento particolare, ovvero a Olimpia in Grecia ci fu la prima edizione olimpica quindi da quel giorno iniziarono le Olimpiadi, la prima edizione fu composta da una sola gara chiamata lo Stadium, che era una corsa, si correva sul rettilineo di sabbia di circa 193 metri e quindi da quel giorno iniziarono le Olimpiadi perché appunto quella fu la primissima edizione di questa antichissima competizione sportiva che si celebra ancora oggi, adesso è molto più articolata ci sono tantissime gare, tantissime discipline, dura diversi giorni, insomma è un'altra cosa però inizio a tutto insomma da quello che successe quel 22 giugno dello 0776 avanti Cristo